Per il momento è un gioco di date. Lunedì scorso, due giorni fa, l'ultimo incontro con l'annuncio dell'amministrazione comunale che entro due giorni, cioè oggi, i lavoratori sarebbero tornati in attività. Ma adesso si parla di venerdì, solo che i lavoratori non sono stati avvisati e oggi molti dipendenti JASIP si sono presentati al lavoro per non concludere nulla. Ma siamo sicuri che venerdì ci sarà finalmente la ripresa di tutte le attività. Non è detto. La Regione infatti invita ad essere prudenti anche perché il via libera da Roma per i finanziamenti necessari a garantire la copertura economica non è ancora arrivato. In sintesi, per i 1.800 lavoratori proseguirà il periodo di sospensione fin quando il Ministro dell'Economia Saccomanni non firmerà per la proroga della Cassa Integrazione Inderoga sino a dicembre, così come prevede l'accordo tra Comune, Regione e IMSS dell'11 aprile, un accordo per la ripartizione dei fondi destinati alla Cassa Integrazione Inderoga. Si tratta di circa 17 milioni di euro, 55% a carico del Comune, 45% a carico della Regione. E anche sul fronte della possibilità di mantenere fede agli impegni le incognite sono molte. Basti pensare che attualmente le caste della Regione sono vuote e che quindi ci vorrà un'ulteriore partita di giro interna per onorare all'impegno a mettere sul piatto la propria quota di partecipazione. In ogni caso, senza la firma del Ministero, i lavoratori resteranno a casa.